buongiorno e benvenuti video acquisto da un negozio online che acquisto per la prima volta e mi fa piacere condividere con voi ed è questo qui allora e biz bohemia si trova in cecoslobaccia e la spedizione io l'ho scelta quella con la battonini che arriva in quattro giorni la spedizione 12 euro forse 12 90 mi ricordo comunque intorno a questo prezzo e i prezzi del materiale e meno meno dei siti italiani però con la spedizione tutto magari siamo lì come prezzi ma quello che a me piace e che poi ve lo farò vedere e la varietà di colori e allora come novità di perline ho acquistato due nuovi che non le ho mai acquistate credo che neanche le ho viste sui siti italiani e allora queste qua sono si chiamano come vedete le web 2 che non sono quelle il nome è uguale ma non sono quelle che assomigliano alle sfondo ma sono queste prendono un lago e allora come vedete hanno due fuori e la forma è questa non è male come perlina vediamo il pensavo che c'era scritta le dimensioni invece no comunque saranno 10 x 3 più o meno ho preso solo una bustina anche perché è inutile che io faccio dei tutorial se voi non avete queste perline ma comunque acquistato un bel po di queste qua perché i colori sono veramente beni e queste si si chiamano aureliox si aureliox come vedete allora queste viene perché vado un calcolo di circa 2 euro a bustina sono colori pastelati guardate che dei colori anche per chiese e queste non mi ricordo di averle viste in qualche altro negozio si presentano così ma le vedo belle anche come distanziatori tra le perline dei colori non sono grandi avranno 5 mm e adesso vi farò vedere ho preso delle mini duo ecco le quali colori molto molto belli un arancio come vedete questo è un po trasparente come si chiama opal blu matte veramente colori delicati questo sarà da bondelli ecco se bondelli matt questo è bianco verde turchese un altro turchese un altro verde ecco questo è cocoa ma questo non ho mai trovato e allora ho fatto un calcolo come vedete 1,90 euro sì 5 grammi però i prezzi sono uguali per tutti esempio questo è circa un euro sempre 5 grammi un colore molto bene anche questo poi questo è un opal sicuro opal pink molto bello anche questo un po di giallo questi li ho già acquistati anche dagli altri negozi per ogni ripresi giallo un rosso un red matt ecco tutti i mini duo a me piacciono le mini duo rendono le creazioni più delicate e adesso vi faccio vedere le animal beads sono bustine da 5 pezzi e costano intorno a questo neanche un euro 80 centesimi mi sembra e ho preso queste colorazioni questo è un viola con dei puntini questo non c'è scritto sopra perché sono state regalate ecco questo c'è scritto ah ma non ho scritto la colorazione solo il blu blu è basta però è più di un blu poi questo ecco scritto il prezzo tanto 8 centesimi per farvi un'idea questi sono full a b matt crystal matt full a b un colore molto bello poi queste orange bronze luster molto molto bello come colore questo è in turchese questo viene un euro un euro più o meno questo è già fatto vedere queste sono uguali poi queste mi piacciono tanto green opac violet molto molto belle come colore questi sono quelle viola di prima dark violet e questi sono opac green e colori molto interessanti e adesso vi faccio vedere invece le pip da preziosa ho preso un bel po' di colorazioni e questi sono un euro un euro 10 a bustina e sono forse 30 pezzi sì 30 pezzi allora ho preso giallo grosso queste qua costano un po' di più la bustina ma perché sono diverse come vedete hanno delle sfumature delle sono zebrate ecco e uguali sono anche queste si notano di più poi viola blu questi sono come quelle di prima ecco queste queste pastellacqua verde alabaster il color menta vedete queste costano di meno queste ancora di meno saranno 60 centesimi più o meno comunque come dicevo io non ho guardato tanto i prezzi questo è anche molto colore molto bel colore ed è light living beige matt e adesso vi faccio vedere invece delle web 2 anche le web 2 come prezzo siamo lì intorno a 70 80 centesimi ho preso sono bustine da 20 pezzi ho preso queste colorazioni che alcune le ho già acquistate queste d'esempio e si chiama valentine coral red valentine opac non le ho mai viste fino adesso queste sì anche questo anche questo anche questo questo colore rosso 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 questo è un jet red blaster rosso 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 molto bello che di rossa non c'è niente forse un rosso molto molto scuro aspettate che lo tiriamo fuori a vedere questi qua non li ho mai mai visti devo dire sembrano nero non sono nere bronzo non sono molto bene però interessante dopodiché ho preso queste ci sono le cristallare sono le tulip già acquistate queste pelle ma questo rosso così nella pare non le ho mai viste e le ho prese dopodiché ho preso un po' di super duet come vedete il bustino da 10 grammi costano un po' di più 2 euro 2 ore 10 15 ma non tutte hanno prezzi diversi chissà perché i prezzi sono diversi tra di loro questo non è un duet però è ma se invece si per due duet carotte e spice da una parte e per la colorazione più chiara dall'altra un po' più scura e poi queste 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 già ce l'ho non so se le ho mai utilizzate comunque queste sono navi ai voli black mac molto bene e questo è il picasso questi sono colori che vanno bene per chi amano le cose tipo antiche antiche allora questo è tutto se avete voglia date un'occhiata ci vediamo presto ciao